Passato i prezzi li abbasserà ancora, insomma una sorta di deflazione nel mercato della cocaina e soprattutto dell'eroina. Una peste il cui ritorno sulle piazze del consumo è previsto in aumento del 40%. Ma dicevamo dei prezzi che sempre secondo le proiezioni di Prevolab porteranno una dose di cocaina a toccare i 13 euro contro gli attuali 15 e per una dose di eroina se ne spenderanno 7. Ed è proprio l'eroina a preoccupare di più perché la sua accessibilità a meno del costo di una pizza e l'elevata dipendenza che innesca il suo consumo sembrano fatti apposta per fidelizzare, scusate il termine, al consumo degli stupefacenti una sempre più larga fascia di clienti, soprattutto tra i ragazzini. Il rapporto di Prevolab registra invece la salita del prezzo di hashish e marijuana dai 9 euro al grammo del 2008 agli 11 previsti, sempre al grammo nel 2012. Insomma un'emergenza sociale che non ha ancora una risposta in termini di risorse per la prevenzione e sempre meno per la repressione. E 58 persone, in maggior parte albanesi, sono state arrestate nel corso di una vasta operazione antidroga partita da Milano e poi estesa in altre regioni. Sequestrati ingenti quantitative di sostanze stupefacenti e due laboratori clandestini per confezionare le dosi da vendere. Blitz anche a Perugia dove sono stati eseguiti una ventina di arresti e fermi grazie a riprese video che hanno accertato la vendita di eroina, cocaina e hashish a poliziotti che si erano presentati come normali acquirenti.